In Spagna nel 2003, un gruppo di professionisti sensibili al grave problema della povertà e dell'esclusione sociale hanno creato la fondazione Nantic Loom, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo dei settori esclusi e divenire protagonisti della crescita attraverso strumenti di microcredito. Gli inizi si sono caratterizzati da piccoli sostegni a un gruppo di donne indigene della selva Locandona del Chiapas, in Messico. Queste donne, con la loro saggezza tradizionale, hanno mostrato come lavorare con le risorse offerte da madre natura. Così, per omaggiare questa filosofia di vita e di lavoro, è nato il nome Nantic Loom, che significa Madre Terra in Maya. Il lavoro di Nantic Loom si ispira alle teorie di Muhammad Yunus, il fondatore della Grameen Bank in Bangladesh e Nobel per la Pace nel 2006, e alle sue parole I poveri sono come alberi bonsai, il problema non è il seme, ma il terreno, e la società, che non ha consentito ai germogli di crescere nel proprio suolo, ma se questi sono in grado di crescere nel terreno di origine e che quindi vengano forniti degli strumenti per lo sviluppo, daranno vita ad alberi alti proprio come tutti gli altri. Grazie a questa filosofia, Nantic Loom è riuscita a creare in Spagna delle reti di sostegno che promuovono l'uso della microfinanza e progetti di sviluppo basati su autoimprenditorialità e microfinanza in America Latina.